ciao a tutti allora vi sto dirigendo verso Maniago ci sono ovviamente arrivato e da qui voglio raggiungere il centro abitato di Boffabro salendo in quota sembrerebbe un bel posto qui da lì voglio raggiungere appunto la forcella Barzana se non erro e infine scendere al lago scendere a Barsis al lago di Barsis e giunti là poi affrontare appunto la salita del biancavallo da Barsis che non ho mai fatto ho fatto appunto quella di dal lato di Aviano ma non dal lago di Barsis vediamo come va e faremo tutto insomma dopo poffa bro Oh 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 Oh